Benvenuti e benvenuti a tutti! In questo nuovo video vedremo come creare delle semisfere di gesso per creare poi delle semplicissime ciotoline con la tecnica delle lastre. Vediamo insieme come fare. La prima cosa che ci dobbiamo procurare chiaramente è la forma nella quale andremo a colare il gesso. Io in questo caso sto usando una coppetta semisferica di plastica, ma va bene anche di vetro o di ceramica. La prima cosa che andiamo a fare è quella di cospargere l'interno della nostra ciotola di vaselina in modo che sia facile rimuovere il gesso una volta che si sarà asciugato. Inseriamo un poco di vaselina all'interno sulla superficie e iniziamo a strofinare l'interno in modo da stendere per bene la vaselina su tutta la superficie dell'oggetto. Una volta che abbiamo unto i nostri recipienti siamo pronti per versare il gesso all'interno. Vi rimando al video sul gesso che vi lascio qui sopra per vedere come preparare il gesso da colaggio. E quello che facciamo adesso è di riempire direttamente queste semisfere. Andiamo a versare pian piano nelle ciotoline, un poco alla volta, in modo così da evitare formarsi di bolle d'aria, e riempiamo le ciotole fino all'altezza desiderata. In questo caso le riempirò completamente. Vado a battere leggermente le ciotole in modo da togliere eventuali bolle d'aria e in modo da distribuire il gesso su tutta la superficie. Una volta che il gesso si è asciugato possiamo togliere la forma appunto dallo stampo e siamo pronti per poterlo utilizzare. Quindi andiamo a stendere una lastra di argilla e prepariamo le nostre ciotoline. Con le due guide e il mattarello vado a creare la mia lastra di argilla, in questo modo. E con l'aiuto di un coppapasta vado a tagliare le circonferenze che saranno le mie ciotoline. Una volta che abbiamo tagliato i nostri dischi, li andiamo ad appiattire uno per uno in modo da diminuirne lo spessore. In questo modo qui. Una volta che abbiamo creato i nostri dischi, li poggiamo sulla forma in gesso. Con l'aiuto sempre del mattarello, iniziamo a stendere l'argilla sul gesso per dargli la forma. Pian piano dall'alto verso il basso. E vedremo che la lastra d'argilla prenderà la forma del nostro stampo in gesso. In questo modo qui. In questo caso andiamo a rifinire. Con una punta disegno la mia circonferenza. In questo modo qui. E la vado a intagliare. Poggiando la punta dell'ago sulla circonferenza che ho disegnato prima e facendo girare il torniello. Stacco la parte in eccesso. E rifinisco un pochino sempre con il mattarello. Non vi preoccupate di queste imperfezioni qui. Le potremo togliere dopo quando si sarà asciugata un pochino. O quando sarà completamente secco anche con un poco di carta vetrata. Sistemo qui la punta. E sono pronto a staccare la mia ciotolina. Pian piano la stacco dal gesso. E voilà. Dopo che la ciotolina si è completamente asciugata e dopo averla levigata un poco con un poco di carta vetrata quello che posso fare è decorare l'interno con dell'ingobbio e vado a spennellare l'interno della mia ciotolina con l'ingobbio giallo. In questo modo qui. Una volta che abbiamo decorato questa ciotolina con l'ingobbio non ci resta a che fare la prima cottura a biscotto e poi immergerlo nella cristellina per ottenere un effetto lucido come su questo qui. Come al solito se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro video di quelli che pubblicherò. Ci vediamo presto con altri video sulla ceramica. Ciao!